Vieni, dai! Vieni, dai! E' finita! Certi! Ah, apposta! Ti ho fatto un'escursione! Non dormire! Oh, dormire! Hop, hop, hop! Finisce! Non c'è più! Però abbiamo il video, eh! Sia il video, poi te lo mando! Se tu vuoi fare un tuffo, di qua! Dai, è bassa! Possiamo andare! Ok! Questa si chiama la torre del sasso. Sarebbe la torre? Oh! Stone! Sasso, stone! Sasso, stone! Aha! E allora...